Cari figli, in questi giorni di avvento, vi invito alla preghiera in famiglia. Io a più riprese vi ho dato dei messaggi in nome di Dio, ma voi non mi avete ascoltato. Cari figli, non permettete che quel giorno di gioia diventi per me il giorno più triste. Vi invito a pregare in modo particolare in questo tempo di avvento, per essere in grado di gustare la gioia dell'incontro con Gesù che nasce. Io, cari figli, desidero che viviate questi giorni come li vivo io, con gioia. Desidero guidarvi e mostrarvi la gioia alla quale io desidero condurre ognuno di voi. Perciò, cari figli, pregate e abbandonatevi a me totalmente. Anche oggi vi invito in questo tempo dell'avvento a decorare la vostra casa, ma soprattutto il vostro cuore. Permettete che la luce del mio piccolo figlio entri nel vostro cuore. Durante il tempo d'avvento, fate una settimana di esercizi spirituali. Non è necessario andare in cerca di un chiostro o di un altro luogo di ritiro. Fate questi esercizi vivendo la vostra vita quotidiana, là dove ciascuno si trova, individualmente. Come mezzi fondamentali per fare questi esercizi usate la Bibbia e il Rosario. Durante la settimana di esercizi vi raccomando di entrare il più spesso possibile nel silenzio, e anche di cantare con dolcezza. Leggete e meditate la parola di Dio, e pregate il Rosario. Invocate spesso lo Spirito Santo e partecipate ogni giorno alla messa, curando con particolare attenzione la preparazione e il ringraziamento. Evitate di guardare la televisione e di ascoltare la radio. Non fumate e fate qualche altra rinuncia. Non andate nei bar a parlare di cose futili con gli altri giovani. Coltivate il silenzio. Se voi vi impegnerete a vivere così per una settimana, io vi prometto un aiuto speciale e delle grazie particolari. Non vi pentirete.